Spezia Empoli 1 a 0 la vittoria giunge tutta nelle mani dello Spezia che riesce a trovare il guizzo giusto, il piglio giusto, adeguato e vince contro l'Empoli 0 i gol per l'Empoli 1 per lo Spezia basta questo gol a ferma di Baranzola al 36esimo del primo tempo per fare in modo che lo Spezia vinca questa partita di oggi 14 agosto 2022 non è stato un gioco malvagio, malevole, quello dell'Empoli proposto, avanzato ma nonostante questo i colpi piuttosto emozionanti dello Spezia sono stati abbastanza esaltanti tanto che gli ho lati in primo tempo grazie a Anzola che la butta dentro detto questo complimenti all'Ospezia il video termina qua va male per l'Empoli non è una colpa, si è ben chiaro può capitare, ci può stare da Nara Radio Italiana è tutto, ciao a tutti